Verificare l'attesa in tempo reale nel pronto soccorso dell'Asla Toscana Sud-Est. È questo il servizio che l'azienda sanitaria da alcune settimane ha messo a disposizione dei cittadini sul proprio sito web, al quale basta connettersi per vedere quante sono le persone curate in ogni pronto soccorso. Abbiamo voluto assicurare la massima trasparenza sul funzionamento, chiarisce la direttrice sanitaria Simona Dei, in modo che le persone che decidano di accedere al pronto soccorso possano sapere quanti sono gli utenti presenti e quindi conoscere anche il probabile tempo di attesa. Il pronto soccorso cura tutti dando priorità ai pazienti più a rischio. Basterà dunque collegarsi al sito dell'Asla Toscana Sud-Est per vedere in tempo reale il numero delle persone prese in carico. Il rosso indica le emergenze, il giallo le urgenze, due codici che hanno bisogno di una presa in carico immediata. Diverso invece l'approccio per i codici azzurro, urgenza differibile, verde, urgenza minore e bianco non urgente e di minima rilevanza clinica. Nel caso dei codici bianchi azzurri che peraltro prevedono il pagamento del ticket, si tratta di prestazioni che potrebbero trovare risposta anche nei servizi ambulatoriali territoriali. Essere tutti consapevoli del corretto uso del pronto soccorso, conclude Simona Dei, favorisce una relazione responsabile tra cittadini e struttura sanitaria.